Una estensione di palli in legno per 200 metri, posa di pietre di peso variabile da 51 a 200 kg a rivestire la scarpata che era erosa. Sono finiti in questi giorni lavori di somma urgenza sull'arginatura destra del Muson dei Sassi a Campo d'Arsego dopo un improvviso cedimento della stessa. L'intervento è stato di 250 mila euro a carico della regione e come ha spiegato l'assessore alla difesa del suolo Giampaolo Bottacin ha permesso di mettere in sicurezza l'arginatura e ha rispettato il cronoprogramma dei lavori. Continuano a pieno ritmo altri interventi nel territorio padovano, manca poco alla fine della realizzazione di un diaframma a nord del centro di Bovolenta che difenderà l'abitato del paese che venne invaso dalla piena del Bacchiglione nel novembre del 2010. L'obiettivo, ha concluso Bottacin, è intervenire in via preventiva per tutelare il territorio in caso di eventi atmosferici particolari.